Allora, ho visto adesso il tempo, quindi no vabbè, alla fine non è neanche male, insomma comunque quest'estate è stata molto una ripresa più che altro, non ci siamo concentrati su nessun lavoro in particolare, abbiamo solo cercato di mantenere un po' la forma per riprendere insomma tra poco, tra due settimane la stagione più importante e comunque adesso sono molto tranquilla, quindi ovviamente avevo sensazioni molto strane, contrastanti perché non ho neanche mai fatto una prova a gara, quindi per me è stata proprio prima esperienza dopo molti mesi, però sono contenta di essere donata a gareggiare perché mi mancava, quindi adesso sono molto più confident.